bene benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello ed oggi oggi è natale per cui vi faccio i miei più caldi migliori auguri buoni auguri stilografici stilograficamente ha bevuto troppo porto secondo me non vi invito a farlo di buone feste e la penna in questione una purtroppo il treppiedi in mezzo e non sfrutto lo sweet spot della aurora 888 marte serie stellar che sta scrivendo con uno schaeffer script red e voi voi come state passando le vostre feste con cosa state scrivendo con quale penna con quale inchiostro abbinato avete deciso di passare le vostre feste natalizie beh fatemelo sapere nei vostri commenti io vi ringrazio come sempre di seguire il mio canale di esservi iscritti a questo punto siamo arrivati oltre i 2000 quindi veramente sono commosso questo è stato un anno in cui praticamente si sono raddoppiati gli iscritti è veramente stupendo vedere la comunità crescere così tanto quindi grazie grazie a tutti e vi auguro felici feste a voi e alle vostre famiglie in un momento di raccoglimento in cui magari c'è chi è solo e che ha molta occasione di sentirsi con i mezzi che abbiamo a disposizione che magari in passato non c'erano quindi questi li possiamo sfruttare tutti dal primo all'ultimo per sentire i nostri cari per sentirci un po' più vicini grazie a tutti e al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti